Grazie a tutti. A distanza per via del Covid-19 e con la mascherina sempre con noi. Ricordiamo un medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchi, ho visto la situazione della seconda ondata che stiamo vivendo e oramai del lockdown in cui ci troviamo. Volevo chiederle, come dovremmo interpretare i dati che ci danno quotidianamente sui contagi, sui tamponi, sui decessi? Cioè, qual è la modalità con la quale dovremmo interpretare questi dati? Facciamo un po' di chiarezza. Sì. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che fin dall'inizio di questa pandemia siamo stati sommersi di dati, in terminologie anche di statistica, che è una materia sicuramente che noi non conosciamo perfettamente, e quindi non sempre abbiamo compreso. Allora, i cosiddetti contagi giornalieri dipendono ovviamente dal numero dei tamponi che si fanno. Certo. Ma se noi volessimo sapere la situazione italiana, dovremmo oggi fare 60 milioni di tamponi, cioè testare in tempo reale tutta la popolazione per capire veramente quante persone sono positive, e compresi gli asintomatici. Il fatto di fare 180 mila, 200 mila, 220 mila ogni giorno un numero, diciamo, diverso di tamponi e soprattutto con dei tempi molto diversi, perché io parlo qui per la situazione adesso del Piemonte con l'intasamento che c'è di tamponi che devono essere processati, noi abbiamo dei ritardi di 7, 8, 9 giorni sui risultati dei tamponi. Quindi il fatto di dire che oggi ci sono stati, per esempio, 30 mila contagi e a fronte di 200 mila tamponi, che ci viene detto giornalmente, è puramente indicativo, perché i tamponi possono essere di una settimana prima e questi di oggi potranno arrivare magari tra qualche giorno. Certo. Quello che serve veramente è capire la situazione attraverso i ricoveri, che è una cosa certa. Certo. I ricoveri ovviamente nascono da una situazione che parte 10 giorni prima, diamo un tempo medio di incubazione che va dai 3 ai 10 giorni, più o meno, quindi il numero dei ricoveri già ci va a fotografare la situazione di 10 giorni prima, comprese le terapie intensive che va a fotografare quella percentuale di gravità rispetto alle persone che sono ricoverate. Ma sicuramente appunto il numero dei contagiati è relativo ai tamponi fatti, quindi è assolutamente un numero che è puramente indicativo. Poi abbiamo il cosiddetto indice R con T, che è l'indice di contagio, che deve stare sotto l'uno. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire sotto l'uno? Vuol dire che se ogni persona contagia meno di una persona, man mano che si propaga il contagio, ognuno contagia meno di una persona e quindi abbiamo una curva in discesa e vuol dire che stiamo andando verso una risoluzione della pandemia. Quando supera l'uno vuol dire che ogni persona contagia più di una persona. Faccio l'esempio, adesso siamo non so a 1,6, ma se noi fossimo a 2, vorrebbe dire che nella media ogni persona contagia 2 persone, quelle 2 persone poi contagiano altre 2 persone ciascuno e diventano 4 e poi le 4 persone ne contagiano e diventano 8. Quindi abbiamo quella temutissima curva, chiamiamola esponenziale, che è quella più temuta nelle pandemie perché diventa appunto inarrestabile. Quindi l'interpretazione dei dati, ripeto, deve essere fatta con molta attenzione pensando che il termometro della situazione ci viene dato proprio dai ricoveri, dalle terapie intensive e purtroppo anche dai decessi, che si riferiscono ovviamente a contagi di almeno 3 settimane prima perché consideriamo una settimana di incubazione, una settimana di malattia, poi l'aggravamento e una settimana può esserci dall'aggravamento al decesso e quindi purtroppo i decessi si riferiscono a contagi di almeno 3 settimane o un mese prima. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli. A casa vi ricordo che se voleste rivedere una delle oramai tantissime puntate che abbiamo affrontato basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Torchio più il nome dell'argomento della patologia al quale siete interessati. Noi vi salutiamo e vi auguriamo un buon proseguimento di visione. Grazie a tutti.